Che giornata storta per il Partito Democratico e, soprattutto, che giornata storta per le sorti del centro-sinistra, e ci mettiamo dentro anche il Movimento 5 Stelle visto che dalle parti del centro-sinistra l'asse con il movimento guidato da Conte viene dato per scontato. Nel giro di qualche ora accade che il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, uno che tenta sempre di apparire a altro dal PD perché ha scambiato le straneità con l'indipendenza, riesca a intravedere una visione di paese. Nell'azione politica di Matteo Salvini poi accade che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, un leghista che poiché sa usare i congiuntivi è stato dirottato tra i democratici, prenda a cannonate il DDL Zen e infine accade che il leader del Movimento 5 Stelle che in un'intervista critichi Salvini attaccando i decreti sicurezza che lui stesso ha avallato da presidente del Consiglio. Michele Emiliano durante l'evento, la piazza, la kermesso organizzata a cegliedaffaritaliani.it ci tiene a dirci che, Salvini sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di paese, ed è uno sforzo che ha dei costi politici. Aggiungendo, Salvini è un politico che ha una sua onestà intellettuale. Che la «visione del paese» di Salvini sia qualcosa che puzza di ferocia e della peggiore destra di sempre sembra un particolare di poco conto per Emiliano che mica per niente qualche settimana fa spese parole di elogio per il sindaco di Nardò Pippi Mellone, da sempre vicino a Casa Pound parlando di politica e amicizia che non possono essere disgiunte. Forse anche per questo spesso il presidente pugliese ha dimostrato di intendere il suo partito come una compagnia di giro. Sull'onestà intellettuale di Salvini che oggi rilancia indignato l'uccisione di un cane con colpi di arma da fuoco dopo aver sommariamente già assolto un suo assessore che invece spara le persone, l'uscita di Emiliano è qualcosa che ha a che fare più con il teatro dell'assurdo che con la cronaca politica. Viene difficile perfino scrivere un commento. Grazie a tutti.